non siete abituati, viene pure un casino piano dentro lì, vabbè, l'amato da dentro, è pianeno, di figa torpietto, acceleriamo un po', solo facciamo la notte, dai lì, vabbè, dentro qualche marcetta, l'accesso del telefonino, un attimo scusa, se devo fare le riprese, non posso ah sì, al buio è fuori, è fuori un po' la stupitata Spielberg, cominciamo a messi bene, bene è inserito il tutto, nel grande mondo di YouTube tu, cazzo devi stabilizzare, lì è un casino, c'è manviva il sole stabilizza hai stabilizzato lì? secondo me, hai preso l'obiettivo la madonna, che razza dei salti via, Johnny, spige, porca miseria, come si spige, Johnny lo stai scannando? comprimiti break, break per il jumpo boom e ora, adesso non capisco, inizia la mattina il sessore di Gerini, sì, la mattina di Gerini Marine, tu dici come il digestore del biogas, il va a 24 ore, sì e quali ne pensi a Dio? posso mettere il Brioche, io c'è la macchina? il Brioche con la Nutella, è buono, basta dire, però è buono ok, inizia il basso, è solo la mia compleanno si vede il basso, allora ok, bravo, ciao tutti ciao, ciao, buono molto oh, passi due sono proprio rimbambiti Password inizia il 31 agosto e non il primo di settembre la colpa sarà del sole della pianura padana un certo metto di... eh, barba, se dovrei fare una foto, portare a piacere dal... ma, c'è l'azione che sta mettendo a posto ma, se vuoi fare una foto? e portare a piacere a casare, di sotto il mezzo buona serata da Sergio, hai una certesa per registrazione di questa sera del Super Ennato 8 il palio non si apre da record e per chi indomini... non so io come... non so io come... eh, ragazzi, io non so se domani vengo comunque a lavorare, eh ma, Andrew, te domani ti devi essere, eh, si chiù, si chiù, si chiù che lo spesso 500, 8 milioni break, break, break la squadra del buco è completo ahahahah domani mi siamo cofani volando domani secondo me domani che è assai lì in Prisea se c'è il trutto, diremi si, eh, Andrew domani ti devi dare il meglio dovete dare il meglio di voi, eh no, è che, eh stasera c'è l'estrazione sul treno all'otto non volevano ricordarvelo che puffè bene bene voi dire sue, ti devi dare eh? mac, simone la trasgliera ma pervara poe ah 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 domani il tg5 aprirà con questa notizia tragedia in traicea trattori saltati in aria cofani che volano il trattore è stato riaperto anche lo svincolo tra 30 secondi gli altri aggiornamenti dalla ricerca eni la lucina rosso le emissioni e i consumi per darti una marcia più fluida che il massimo piacere di iniziativa valida fino al 13 settembre passaggieri per il traffico di rambordio sangalli stasera a zucco e vero che l'ha fermato con l'accusa di pedofilia è ricercato in 10 stati è ricercato in 10 stati è ricercato in 10 stati non ti spaventare Bobo non ti spaventare ti sento? ti sento? ti sento? ti sento? ti sento? chi sono? jumbo sei il numero 1 sei il numero 1 jumbo andiamo a metterlo in mezzo stop sei il numero 1 ci sento? ci sento? calda c'e son ok Scusi André, avete estratto l'avanzamento? 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 Scusi André, avete estratto l'avanzamento?